Musica Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi questa mattina qualche minuto fa è uscita la patch 14.20 Un sacco di novità e una tonnellata di roba da scoprire nei prossimi giorni dei video news Anche se la patch su pc era solo di 1,70 giga Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop Con il mio codice creator Xyuderone Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali E soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news E allora andiamo direttamente a vedere tutto quello che era contenuto nella patch 14.20 Partendo dalle skin Una coppia di guerrieri ragazzi Lei e lui Molto molto carini Non so perché ma mi piacciono davvero tantissimo Sappiamo che questi guerrieri avranno anche degli stili personalizzati Ma insieme a loro arriva anche una nuova skin Che somiglia molto a Calamity Anche lei con uno stile personalizzato senza il cappello Quindi molto molto carino Questo invece è il backpack ovviamente della ragazza che avete appena visto E Sagan è di nuovo la terza skin presente in questa patch 14.20 Lo scudo dei due guerrieri avrà uno stile personalizzato Modificandolo potrete mettere una spada dietro E quindi giocarlo in maniera un pochettino più aggressive Ed ecco finalmente Anche se già ve ne avevo parlato nell'altro video news di oggi La macchinina di Rocket League Il backpack Anch'esso con una variante di colore arancione Se non ricordo male Verrà visto in questo modo nella schiena delle skin Questo invece è lo zaino della ragazza Sagan Che vi ho appena fatto vedere E arrivano finalmente i regali di compleanno Per questo terzo anniversario di Fortnite Mi dispiace che non si siano un pochettino più spremuti Per farci magari un regalo che potesse continuare Il set diciamo del compleanno Vi ricordo nella season 1 Nel primo compleanno Arrivò questa torta con il numero 1 Nel secondo compleanno arrivò il piccone E questa volta arriva di nuovo la torta Due le emote Che saranno disponibili per il concerto dei BTS Ve ne avevo già fatta vedere una ieri su Instagram E poi questa mattina vi ho fatto vedere anche l'altra Nel video news I'm Diamond E It's Dynamite Disponibile prestissimo nel negozio Arrivano anche tre varianti A titolo completamente gratuito Per delle skin che già potreste avere La prima ragazzi è Ventura La seconda ovviamente è Venturion E la terza è Abstract Devo dire personalmente che tutti e tre questi stili Mi piacciono tantissimo E migliorano notevolmente l'aspetto di queste skin Questo invece ragazzi è il back Il deltaplano dei cavalieri Proesa del Manchener Non so cosa diamine voglia dire Perché è scritto in spagnolo Però come vedete Anche lui Sembra avere una variante Per quanto riguarda invece la modalità creativa Arrivano due nuove costruzioni E anche altri pacchetti Il Questo sembra più la casa delle fate Delle bambole O somiglia anche al castello di Doom Quando si è un pochettino diciamo Spostato sull'altra sponda Ecco a meno che non sia poi viola Mentre arriva anche una fontana Con delle Con degli archi Molto molto carina Coperture Tre nuove coperture La prima ragazzi Quella Glassata Mi sembra di vedere La seconda Che secondo me farà parte sempre del set Dei due guerrieri E la terza invece Che è Una specie di Electroshock Qualcosa del genere Quindi suppongo sia Animata Andiamo avanti perché con Rocket League Che sarà disponibile Gratuitamente dal 24 settembre Sembrerebbe Ci saranno 5 nuove sfide Trovate sempre tutto Nel video di oggi Questa è una delle scie Presenti Questo invece è il Background musicale Torniamo invece al Compleano di Fortnite Perché i regali non sono finiti Dato che arriverà una serie di sfide Veramente incredibile Che ci regalerà Ad esempio Uno spray Ma ci regalerà anche un emote E non è finita Perché arriva anche Una copertura Forse questa è addirittura La copertura Che vi avevo fatto vedere prima Arriva anche l'adesivo Con il cupcake E il numero 3 in alto Ed eccole qua ragazzi Tutte le sfide Come vedete Un sacco di regali E completando L'ultima fase Di prendere Salute o scudi Dai pezzi di torta Addirittura 80.000 punti Esperienza Che sono una bella Manata Completando tutte le sfide Invece otterremo Il backpack Con il numero 3 E andiamo avanti Perché ci sono anche I picconi Come vi anticipavo Che ancora non vi ho fatto vedere La doppia sfada A me dispiace Che vanno un pochettino Sempre a riprendere Degli stili In picconi Che già abbiamo Cioè questa doppia spada L'abbiamo già vista In 2000 salse Comunque C'è E c'è anche questo Che assomiglia già A qualcosa che abbiamo Entrambi fanno parte Ovviamente Di lui Oppure di lei Questo invece è il piccone Che completerà il set Della ragazza In arancione E abbiamo Un elenco Di tutte le varianti Come potete vedere Sia gli scudi Quindi i backpack Sia i picconi Sia il deltaplano Sia le skin Possiamo selezionarle Come preferiamo Se non avete capito Qual è la variante Cambiando lo stile Il disegno Della skin Diventa un po' Più pastelloso Quindi Una roba simile A quella che Ci era capitata In season 8 se non ricordo male Ve lo ricordate Con Ora non mi ricordo La collaborazione Il tizio Quello Con gli occhiali Pantaloni gialli Dai avete capito Ragazzi Col backpack Che parlava Mi sfugge Il nome In questo momento Ma grande Grandissima Novità Anche Quanto relativo All'fncs Quindi Arrivano finalmente Le due ricompense Che otterranno I qualificati All'fncs L'adesivo E lo spray Questi sono ovviamente Disponibili Sempre Però Attenzione Potrebbero essere Forse Se non fossero I regali Per i qualificati Potrebbero essere Invece i regali Per i drop Di twitch Quindi mi raccomando Ragazzi Attenzione Al mio canale Che se ci sono Le fncs E le vado a commentare Potrei avere I drop abilitati Come è già successo Quindi mi raccomando E andiamo avanti Perché arriva anche Una nuova scheda punti Si chiama Fishy Ed è quella Che ci permette Di ottenere 15.000 punti esperienza Completando Tutto l'elenco Di pesci Quindi mi raccomando Ragazzi Cana da pesca in mano E datevi Da fare Arriva finalmente Ragazzi Wolverine Mi è da ridere Un attimo Arriva finalmente Ragazzi Wolverine Che dicono Dovrebbe arrivare In foresta Come boss E sappiamo anche Che avrà Uno stile Personalizzato Guardate Che meraviglia Ragazzi Io Io direi Di Utilizzarlo Perché è veramente Veramente Meraviglioso Peccato che non sia Molto serio Però direi che Vale talmente Tanto la pena Che Ci sta Ci sta veramente Un casino E andando avanti Arrivano anche Le nuove Un nuovo Prefabbricato Che però prefabbricato Non è Arriva un nuovo Negozio In mappa Questo è Un'immagine Del Del negozio Ed è esattamente Posizionato Dietro Siepi Da Grifoglio Dove c'è Il benzinaio Vi faccio vedere Meglio In questa immagine Ragazzi Come vedete Proprio là Ci sarà Questa nuova struttura Insomma ragazzi Io ho tutte le news Della 14.20 Ve le ho dette Ovviamente Non vi dimenticate Di guardare I video news Tutte le mattine Alle 7 e un quarto Perché Sicuramente Arriveranno Tante altre cose Un bel pollice In su Iscrivetevi al canale Ragazzi di twitch Mando l'outro Non me ne sto andando Non me ne sto andando Ciao